Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video news e info su The Sims 4. Prima di lasciare il video ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio al video e buona visione. E ragazzi eccoci tornati con delle news che riguardano The Sims 4. Infatti è di pochissimo tempo fa un'indiscrezione partita da un profilo ufficiale dell'EA che a questo punto si può quasi considerare, beh, credo ufficiale. E ma di cosa si parla? Beh, adesso ne parliamo un po'. Sappiamo infatti tutti ragazzi che la Sims 4 News Day ha preso in considerazione una vera e propria petizione che riguardava i colori delle skin dei nostri sim. Una richiesta da parte della community di rendere più inclusivo il gioco aggiungendo quindi dei toni di pelle e tante altre belle robe. Sapevamo che erano al lavoro sull'implementazione proprio di queste skin. A oggi ragazzi probabilmente sappiamo le date d'arrivo e quindi grazie a questa indiscrezione che poi è stata tradotta dal sito Sims World quindi mi raccomando passate alla descrizione che vi lascio la fonte beh, abbiamo un quadro generale di quello che ci possiamo aspettare. Partiamo dal vero e proprio aggiornamento e leggiamo, probabilmente lo starete vedendo a schermo che dal sito ufficiale spagnolo è arrivata questa indiscrezione. Infatti si parla di ben oltre 100 nuove tonalità di carnagione e questa cosa è molto molto importante e mi viene da pensare che non ci saranno solo carnagioni realistiche. Mi piacerebbe infatti avere per i sim anche delle carnagioni un po' strambe anche perché con l'aggiunta degli alieni di Batuu piuttosto che le sirene, piuttosto che gli incantatori mi piacerebbe avere più skin anche per creare qualche partitella fantasy. Perché no? Ma a quanto pare l'aggiornamento non si ferma qua infatti leggiamo che sarà presente uno slider per la scelta della carnagione e degli slider per la personalizzazione del trucco. Quindi ragazzi, mi aspetto che sarà probabilmente un qualcosa che rivoluziona un attimino il vero e proprio crown sim. Questa cosa, ragazzi, è importante e pare essere molto molto grande tanto che non avremo tutto e subito ma anzi, verrà divisa nel tempo ma l'implementazione delle 100 nuove skin l'avremo il 6 di ottobre ragazzi, manca pochissimo e poi faremo anche delle altre considerazioni. Certo è, ragazzi, che i nostri amici da console dovranno aspettare fino al 10 novembre per avere le prime 100 skin ma poi, in realtà, le altre funzionalità sto leggendo verranno introdotte nel gioco a dicembre. Ragazzi, questa indiscrezione è stata ormai già cancellata è scomparsa però sono stati fatti degli screen e ormai è di dominio pubblico quindi ormai la frittata è fatta. C'è però da fare altre considerazioni io vi ho detto che l'update delle skin me lo aspettavo come pre-patch di un nuovo DLC a questo punto non mi aspetto sia così ma anzi, tutt'altro perché il 6 ottobre mi pare molto molto vicino a meno che possa che so anticipare uno staff pack io penso che se ad ottobre dovesse uscire un'espansione e se fosse dovuto uscire in realtà l'espansione beh, a quest'ora avremmo già avuto il trailer e probabilmente tante indiscrezioni perché la stessa SimGuruListday ci aveva detto che da qui a poche settimane avremo appunto scoperto qualcosina in più quindi non mi aspetto arrivi l'espansione a questo punto ad ottobre me l'aspetto a novembre canonica come sempre però comunque questo update è sicuramente ben gradito ben voluto è nel gioco base lo sappiamo già quindi tutto quello che arriva gratis beh, ben venga altra cosa anche dicembre come data mi pare strano a meno che non abbiamo nell'area lo staff pack quello famoso che potrebbe arrivare proprio a dicembre quindi prima espansione poi staff pack in realtà io ho invertito l'uscita infatti mi aspetterei uno staff pack ad ottobre e in questo caso la data del 6 ottobre per l'update potrebbe essere buona e valida perché a questo punto potremmo avere la pre-patch dello staff pack ad una settimana dall'uscita quindi in realtà si potrebbe prestare benissimo all'uscita dello staff pack e poi a dicembre invece un update gratuito che potrebbe aggiungere le altre funzionalità nel comunicato che poi è scomparso dicono che ad ottobre cominceranno a modificare anche le pettinature del gioco base io vi ricordo ragazzi che questo update aggiunge delle skin quindi le carnagioni ma anche i capelli del gioco base credo migliorati certo è ragazzi che se abbiamo un menu di scelta di oltre 100 skin questa cosa non può che fare un piacere se poi come stato riferito ci saranno anche delle slider che cambieranno il modo di attuare e quindi in realtà mettere la skin ma mettere anche il trucco a queste skin specifiche beh ben venga è molto importante per noi annunciarvi che abbiamo preparato grandi cambiamenti per la parte restante di quest'anno a dicembre metteremo a vostra disposizione almeno 100 nuovi colori di pelle con tonalità fredde neutre e calde oltre a queste aggiunte siamo lieti di introdurre un nuovo slider per tutte le tonalità sia nuove che esistenti che vi permetterà di modificare il colore di pelle selezionato verso sfumature più chiare o più scure quindi ragazzi sia una sorta di implementazione di un crea uno stile ma skin edition abbiamo ascoltato le vostre opinioni riguardanti il trucco e stiamo lavorando per migliorare anche questo aspetto a tal proposito per dare competenza all'assortimento ampliato delle tonalità di pelle che lanceremo a dicembre aggiungeremo nuovi slider per il trucco nella modalità crea un sim le opzioni di personalizzazione rinnovate offriranno un nuovo livello di controllo sull'aspetto dei vostri sim in modo tale che possiate creare i look più perfetti possibili inoltre l'aggiornamento di dicembre includerà altre due pettinature migliorate per il gioco base restate sintonizzati se volete avere altre informazioni insomma io sto giustamente leggendo il comunicato tenete in considerazione che l'aggiornamento di ottobre per pc sarà visibile solo per coloro che eseguono il gioco con l'impostazione grafica texture sim non compresse attivata questa cosa è importante ragazzi essa non è importata in maniera predefinita in tutti i dispositivi per cui seguite questi passaggi per verificare la vostra configurazione quindi ragazzi in realtà dobbiamo un po' smattare ma poi pian piano arriverà tutto e ragazzi mentre registravo il video news e info hanno appena aggiornato rendendolo ufficiale quindi ragazzi ora leggiamo dal sito ufficiale tutto in corsa signori perfetto il team di The Sims rilascerà un aggiornamento del gioco base sulle tonalità della pelle esistenti il 6 ottobre per pc e mac il 10 novembre per console mentre lavoriamo per espandere la varietà di tonalità della pelle in questo primo passaggio miglioreremo gli artefatti macchiati all'aspetto cinereo delle tonalità di pelle più scure quindi ragazzi ovviamente vi lascio il link anche del sito ufficiale così almeno leggete bene abbiamo letto tutto quello di prima in realtà era completamente vero quindi in realtà le slider tutto quello che arriva a dicembre però stanno arrivando grandi cambiamenti e soprattutto ragazzi una frase è importantissima tieni gli occhi aperti per ulteriori informazioni del nostro team alla fine di ottobre o all'inizio di novembre quando iniziamo a implementare questi cambiamenti quindi ragazzi fine ottobre o inizio di novembre come vi ho detto secondo me scatta la pre patch dell'espansione se dovesse essere a fine ottobre non lo so perché a questo punto lo staff pack mi pare troppo vicino all'espansione non avrebbe senso comunque in tutto ciò sappiate che c'è tanto da fare vi rilascio al me del video di prima sul divano perché stava dicendo delle cose furbe ogni tanto tutto ciò ragazzi vi ricordo poi è condito da appunto tante indiscrezioni che riguardano nuove espansioni la montagna generation gli staff pack quelli strambi il murder espansione che era un fake insomma questo periodo si preannuncia essere molto molto ricco per The Sims tra nuovi contenuti contenuti che la gente chiedeva quindi in realtà una richiesta che è stata accolta dai sim guru e questo fa sempre piacere a tutti e poi appunto nuovi contenuti quindi da qua in avanti ragazzi cosa mi posso aspettare per The Sims beh intanto cercherò di dare un punto fermo alle serie così almeno siamo pronti per i nuovi mesi e soprattutto stanno come dice il comunicato cercando di diluire le cose che arrivano nell'ultima parte dell'anno e questa cosa non mi dispiace affatto ragazzi perché appunto ci permetterà di avere i prossimi mesi credo da ottobre a dicembre belli belli pieni e quindi che succede a questo punto niente ragazzi che come sempre io sto qua sul mio divanetto a fare le news e info e spero ragazzi sarete qua a farmi compagnia perché secondo me ci divertiremo abbastanza vedremo i nuovi contenuti capiremo come portarli insomma vedremo un sacco di cose da qua in avanti quindi come sempre io vi ricordo di iscrivervi se non siete iscritti al canale di attivare la campanellina per restare sintonizzati su tutte le news vi ricordo anche di lasciare un like se questo video vi è piaciuto e vedete a schermo il canale se volete iscrivervi è anche il video consigliato io come sempre vi do l'appuntamento alla prossima vi dico ciao a tutti e vi do l'appuntamento